ciao a tutti raga eccoci al nostro appuntamento rifacendoci appunto al video scorso in cui parlavo dell'applicazione sedicesimi con la gas quindi lo sviluppo del pedale oggi ho deciso di farvi vedere come poter applicare sempre sedicesimi sui vari tamburi usando comunque la cassa cosa intendo? intendo questo sedicesimi facciamo i primi due con le nullate e gli ultimi due con la cassa questo lo applichiamo sui tamburi sedicesimi sempre sedicesimi molto importante perché più si va diciamo si aumenta la velocità ok e più il sedicesimo sarà stretto quindi quindi questo ok molto interessante anche lo sviluppo appunto del predale e tutto questo in sedicesimo immaginiamo il tempo in quattro vediamolo un attimo un pochettino magari più veloce quindi piano piano con calma con molta calma ok ci mettiamo sulla batteria per me è stato molto utile utilissimo sia per lo sviluppo del pedale che per lo sviluppo del sedicesimo sul drumset chiaramente è un esercizio molto particolare diciamo perché ci sono implicazioni sia di concentrazione che di movimento io spesso più vado veloce con il pedale e più chiaramente uso la punta del piede non nella pianta per avere appunto più attacco e anche una buona risposta dal dal pedale ok sfruttando un po il rimbalzo del pedale diciamo a certe velocità bisogna per forza sfruttarlo rimbalzo questo è quanto riguarda appunto lo sviluppo un ulteriore sviluppo del pedale applicando appunto anche se dicessimo mettendo comunque anche mano destra e mano sinistra ciao ragazzi grandissimi come sempre ecco given Grazie E' Grazie.